Musica Buongiorno, bentrovati dalla redazione di Telebari. Torna l'incubo per i 230 operai dell'OM Carrelli Elevatori. L'amministratore delegato dell'azienda, Massimo Fedeli, comunica il mancato accordo della trattativa con la Fresi Nash, l'azienda inglese che doveva rilevare lo stabilimento. Stando a fonti interne della regione, l'azienda avrebbe fatto perdere le proprie tracce. L'OM Carrelli Elevatori, attualmente è di proprietà della tedesca Chion, che nel 2011 ha deciso di disfarsi dello stabilimento, licenziando tutti i lavoratori. Ed ora passiamo alla cronaca. Una cellula di matrice islamista con base in Puglia e stretti contatti con personaggi di spicco del terrorismo internazionale è stata sgominata dai carabinieri del ROS di Bari, che hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare. Il servizio è di Cristina Ferrigni. Incitavano alla Jihad e ad azioni e suicide in Occidente nelle zone di guerra e sei arrestati nell'operazione contro il terrorismo internazionale eseguita dal ROS dei carabinieri di Bari, operazione denominata Masra Teatro. Associazione di terrorismo internazionale e istigazione all'odio razziale le accuse per gli arrestati catturati in Belgio, Puglia, Lombardia e Sicilia. Le indagini hanno accertato che gli affiliati venivano esortati a compiere azioni suicide anche attraverso documenti, audio e video. La cellula, di matrice islamista con base ad Andrea in Puglia, aveva rapporti molto stretti con personaggi importanti del terrorismo internazionale. In diverse occasioni avevano mostrato un acceso antisemitismo e un'avversione per i paesi infedeli, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia. Il ruolo apicale all'interno della cellula era ricoperto dal tunisino Osni Akemia Sen, già imam della moschea di Andrea e gestore di call center nella stessa cittadina. Accertata dalle indagini la sua abilità a formare nuovi adepti e consentire loro di raggiungere i territori della Jihad. Era proprio all'interno del call center, infatti, che si studiavano sui siti web i video pubblicati nei forum jihadisti per acquistare le giuste competenze a confezionare ordini esplosivi e ad usare le armi da fuoco. Sul web venivano anche reclutati volontari da avviare campi di battaglia in Afghanistan, Yemen, Iraq e Cecenia. Dalle indagini di Erosa è emersa anche l'attività di raccolta fondi di finanziamento operata dal capo della cellula in favore di familiari di alcuni terroristi. Non c'è allarme terroristico in Puglia, questa la rassicurazione degli esponenti della procura barese che oggi hanno fornito i dettagli dell'operazione in una conferenza stampa nel comando regionale dei carabinieri. Precari dei vigili del fuoco e del 118 di nuovo in piazza per manifestare contro la mancata stabilizzazione. Questa mattina i lavoratori della funzione pubblica CGL si sono riuniti sotto il palazzo della Presidenza della Regione. Chiedono al Presidente Vendola la ripresa del tavolo tecnico sulla stabilizzazione dei soccorritori sanitari e di intercedere presso il Ministero dell'Interno sulla questione dei contratti di lavoro per i vigili del fuoco. Dalla violenza al femminicidio, l'amore non c'entra è il nome del convegno svoltosi nella sala consigliare del Palazzo della Provincia questa mattina a rilasciare una dura testimonianza a una donna vittima del marito per 18 anni salva solo grazie al proprio coraggio. Ce ne parla Barbara Cirillo. Molestate, perseguitate, minacciate e nel peggiore dei casi ammazzate. Il fenomeno dello stalking è in aumento. Nel 2012 solo nella provincia di Bari sono state uccise 124 donne e tra luglio 2011 e giulio 2012 sono state ben 257 le denunce per stalking circa due denunce a settimana come dichiarato dalla dirigente della questura di Bari la dottoressa Ballantuono una delle relatrici del convegno organizzato nella sala consigliare della provincia di Bari dalla violenza al femminicidio l'amore non c'entra fortemente voluto dal coordinamento donne Cisli-Bari dall'FNP Cisli-Barese dall'Antes e dall'Anolf sollecitare le istituzioni e la politica affinché si faccia sempre di più per tutelare le donne vittima di violenza non solo fisica ma soprattutto psicologica quella più difficile da dimostrare davanti ad un tribunale non sempre la violenza incomincia con attitruci ma con gesti spesso infantili ma pur sempre continui che sono di competenza persino del giudice di pace le donne intanto chiuse nelle mura domestiche rimangono intrappolate nel dolore non solo fisico e nella paura due sono le vie per affrontare lo stalking quella legale della querela e quella giudiziaria per cui si richiede l'intervento dell'autorità pubblica che diffida lo stalker ad assumere atteggiamenti violenti e maniacali nonostante se ne parli da tre anni le vittime di violenza sono ancora troppe tante non ci sono più come Anna Costanzo e ancora troppo poche quelle che armate di coraggio decidono di denunciare i propri carnefici come la signora Lucia vittima del marito per lunghi 18 anni che cosa l'ha spinta a trovare il coraggio? di dire tutto, di denunciare? che l'ultima volta che è successo che lui mi ha alzato le mani me la sono vista veramente brutta una mattina mi sono alzata e ho detto basta perché qui non si poteva andare avanti più così anche perché mi ero risa conto che lui non era a mure non mi amasse altrimenti non si comportava così qual è stato il primo passo? andare subito in ospedale perché avevo dei libiti al viso e poi andare dal mio avvocato al garabinile e fare la denuncia oggi come sta? bene molto ma molto meglio sì non ho più paura quindi sto veramente meglio appuntamento alle ore 17 in aula d'alfino questo pomeriggio per la monotematica sull'ordine e la sicurezza fortemente voluta dal sindaco Emiliano all'indomani dell'omicidio di Giacomo Caracciolese freddato in via De Mille in pieno giorno e in mezzo alla folla l'episodio ha alzato e di molto la tensione in città inducendo consiglieri comunali e primo cittadino a richiedere un momento di riflessione sul livello di criminalità a Bari come combattere un fenomeno in aumento quale l'uso eccessivo di alcol questo è il tema della conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la sezione di criminologia del padiglione di medicina legale di Bari per rappresentare il mese della prevenzione sui problemi alcol correlati 2013 il servizio di Barbara Cirillo una vera e propria piega sociale quella dell'alcol di cui si è discusso nella conferenza stampa organizzata nella sezione di criminologia del padiglione di medicina legale dalla SIA società italiana di alcologia che ha presentato il mese di prevenzione sui problemi alcol correlati 2013 un fenomeno più che mai un aumento quello della dipendenza da alcol che riguarda il 21% dei maschi e il 18% delle femmine tra i 18 e i 24 anni e dato ancora più allarmante il 12,4% dei maschi e l'8% delle femmine di un'età compresa tra gli 11 e 17 anni ma non sono solo i giovani ad abusare di alcol e recente infatti il dato secondo il quale il consumo eccessivo di questa sostanza tossica e cancerogena appartenga anche agli over 65 8 milioni di individui in Italia sono a rischio di alcol dipendenza 2 milioni e mezzo i giovani che si mettono alla guida dopo aver bevuto troppo 1 milione e 400 i ragazzi che aderiscono alla nuova moda tra i giovani il binge drinking ovvero il bere fino allo sballo e non solo il consumo eccessivo di alcol contribuisce a sviluppare oltre 60 patologie e genera danni al normale sviluppo cerebrale e per questo che la SIA da oltre 10 anni è impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema alcol l'obiettivo a livello normativo è quello di rendere operativa in linea con i tempi la legge quadro 125 del 2001 come spiegato dalla rappresentante per la Puglia del gruppo alcol della commissione salute della conferenza stato-regione la dottoressa Salerno Noi abbiamo avuto la fortuna in Italia di promulgare una legge però quadro che è la 125 del 2001 che suggerisce delle norme alle regioni che nella loro autonomia la dovrebbero applicare purtroppo quella legge è rimasta un capitolo morto la conferenza che abbiamo fatto a Trieste invece che ha riunito 400 esperti di alcologia italiani vuole dare contenuti alla legge vuole proporre alle tutte quante le regioni delle linee di indirizzo per dare contenuti azioni qualche cosa che riesca a contenere il problema alcol o a trattarlo al meglio e quindi rendendo operativa la legge 125 in tutta quanto il territorio italiano e sarà realizzato entro il 2015 un nuovo centro servizi nella zona industriale Santa Caterina un fabbricato di 5 livelli con depositi per gli artigiani ufficio postale banca sala conferenze un punto ristoro e asilo nido il fabbricato sarà dotato di impianti che utilizzano fonti rinnovabili l'importo dei lavori ammonta 4 milioni e 500 mila euro e da oggi sul sito del comune è pubblicato il bando del progetto entro settembre la giudicazione dei lavori qual è il ruolo dell'Italia e della Puglia in Europa e quanto è importante supportare il settore dell'export ne ha discusso ieri il Rotary Club di Bari alla presenza di Giovanni Castellaneta ambasciatore d'Italia in Iran in Australia e negli Stati Uniti e presidente del gruppo Sace lo ha intervistato per noi Silvia Dipinto L'Italia vive un momento molto particolare un momento anche difficile e di crisi su che cosa dobbiamo puntare per rimanere leader nel Mediterraneo e anche un paese strategico all'interno dell'Unione Europea L'export è una delle trainanti realtà dell'Italia l'export è forse l'unico settore in progresso negli ultimi anni dobbiamo fare molto di più per l'export per favorire le eccellenze italiane oggi il governo ha ricevuto una larga maggioranza in Parlamento quindi abbiamo un governo efficiente capace che sicuramente saprà dare un nuovo impulso alle politiche di esportazione dei prodotti italiani anche la Puglia conferma questa tendenza visto che l'export è un settore in forte crescita su quali prodotti per esempio si può puntare secondo lei in Puglia e come migliorare le attività delle imprese pugliesi la Puglia intanto gode di una posizione geografica importante al centro del Mediterraneo quindi potrà continuare a svolgere questa funzione propulsiva verso i paesi balcani verso l'area del Mediterraneo prodotti nei settori tradizionali dell'agroindustria della manifattura e anche in quelli più più recenti con maggiore valore aggiunto quello dei servizi e dell'alta tecnologia io vedo grandi possibilità di sviluppo della Puglia soprattutto verso i paesi vicini senza guardare troppo lontano ma nei paesi vicini dove la posizione logistica dell'industria pugliesi può avere un valore aggiunto Ed ora il meteo cielo velato poco nuvoloso vento da est su dest con intensità di 10 km orari raffiche fino a 27 km orari temperatura minima 15 gradi massima di 28 gradi mari poco mossi per ogni aggiornamento i nostri siti web telebari.it e radiobari.net in chiusura vi ricordo anche l'appuntamento con SOS Telebari condotto da Silvia Dipinto in onda alle 15 e 30 ospite in studio quest'oggi il presidente dell'AMI Gianfranco Grandaliano è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona giornata grazie per essere stati con noi